martedì 12 dicembre 2023 yacht port cartagena nebbia e vento forte guardate che roba la in fondo c'è uno sprazzo di sole nel porto nebbia la visibilità sarà di due o trecento metri qui fuori dal molo non si vede niente non si vede niente Grazie a tutti Grazie a tutti